Nel mese di gennaio 2024 ho fatto due operazioni di trading, entrambe andate a costo, uno short sul DAX e uno short sull'oro, che quindi mi fanno registrare un mese negativo. Per quanto riguarda invece adesso il mese di febbraio, ho già svolto un'operazione anch'essa a costo, che è uno short sull'euro, adesso andiamo a vedere sul diario, ma non ho momentaneamente posizioni in atto. Ben ritrovato in questo nuovo appuntamento di Professione Trader, io sono Damiano Zito, Price Action Trader indipendente, membro attivo della community di Airforex e questa è la rubrica dove settimanalmente racconto i miei trade, il mio diario di trading su un conto reale di 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrepreso all'interno di Airforex. Andiamo quindi a vedere cosa effettivamente ci sta raccontando il mio diario di trading, vado quindi a mostrare quella che è la situazione del mese di gennaio, partiamo appunto da questo mese, quindi inizio anno con due trade negativo a costo, quindi uno short sul DAX, ampiamente discusso qui sul canale, e uno short sull'oro. Tutte e due sono costi operativi, quindi meno 165 euro circa, meno 176 l'altro, quindi due trade a costo. Nello scorso video, se l'hai visto, ho raccontato un po' quello che era il mio ingresso sul loro e che poi successivamente ho deciso di chiudere, perché effettivamente non mi sentivo più a mio agio con questo trade. Quindi un eseguito, tra l'altro il trade era partito con un'esecuzione in fast market un po' male in termini di prezzo di entrata, poi ho deciso di chiudere, quindi rispetto al mio stop iniziale impostato a 2060, sono uscito a circa 2040, a 2043 e 35. Quindi la situazione su gennaio chiaramente è quella di un mese con meno 343, 46 euro. Anche febbraio in realtà al momento mostra un negativo, questo è un costo di un'operazione sempre short, in questo caso sull'euro-dollaro, operazione che ho chiuso con un costo parziale, quindi di 129,80 euro rispetto allo stop iniziale, e perché, insomma, la situazione in end of day era un po' cambiata. Ma torniamo un attimino sui grafici e andiamo a vedere l'operazione di trading prima sull'oro. Questa è infatti l'operazione sull'oro, avevo fatto l'ingresso, avevo settato, diciamo, un sell stop a 2011, il mercato in realtà è stato un po' veloce, ci ho avuto un'esecuzione a 2008, con uno stop a 2060. Mercato che avevo deciso di shortare su questa dinamica di falsi, no, sul livello di 2030, all'aumento di volatilità nella giornata del 24 gennaio, il 25 ho deciso di fare un ingresso sell stop. Quindi sono stato eseguito proprio su questo minimo, poi il mercato è venuto su. Che cosa è successo? Che fondamentalmente quando il mercato poi è fuoriuscito da questa struttura, quindi questo swing low e swing high, che era, diciamo, il minimo massimo all'interno del quale si trovava questo aumento di volatilità, il mercato torna su e effettivamente dopo aver registrato l'episodio di Professioni Trader ho deciso nel primo pomeriggio comunque di uscire proprio dopo la rottura di questo swing high e comunque dopo la rottura del massimo della sessione europea. Il prezzo effettivamente dopo un paio di spike comunque andato a testare proprio il 2060 ha fatto una falsa rottura interessante adesso, falsa rottura che ha riportato in chiusura adesso di ieri il prezzo sotto il 2030. Quindi il 2030 continua adesso dopo questa grande falsa rottura ad essere un livello interessante per ritornare short su loro per quanto mi riguarda. Per quanto, diciamo, riguarda poi questo trade mi porta a casa il fatto che non... Allora, questo era un trade che effettivamente nasceva come idea di un trade probabilmente più veloce, quindi non un trade che aveva l'idea di stare a ragionare molto sul mercato, anche perché se andiamo a vedere quelle che sono le ampiezze dei ritracciamenti che può avere un po' l'oro, cioè potevo aspettarmi un'ampiezza di questo tipo dal mio ingresso proprio del 2060 sull'oro e quindi l'aver posizionato questo tipo di stop è sostanzialmente aver detto che il mercato effettivamente può andare al 2060, quindi non sono andato a posizionare uno stop dove il mercato non ci può arrivare. E quindi questa considerazione che in realtà probabilmente ho fatto dopo aver inserito il trade, cioè ho ragionato solo sullo swing ma non sulle volatilità complessive del mercato, mi ha fatto appunto capire che non era più il caso di rimanere dentro proprio perché il mercato poteva arrivare ai 2060. Così è stato e quindi diciamo che aveva senso uscire. Aveva senso anche il trade se andava chiaramente subito dalla mia parte come era il progetto, ma dovevo tenere in considerazione questo aspetto. Quindi impostare anche una sorta di, per quanto mi riguarda, uno stop temporale uno o due giorni al più si esce. Questa è l'idea. Quindi diciamo questo è anche quello che mi porto come lezione da questo costo operativo sull'oro. Detto questo, quindi questa operazione è andata a costo, è chiusa il 2034, adesso ho il 2043, adesso attenderò nuove conferme. La seconda operazione che andiamo a vedere oggi è uno short su euro, su euro, quindi uno short che avevo inserito il primo di febbraio dopo questa candela, quindi dal 31 gennaio, che è una FTV. Chiaramente non ho tradato questo solo perché c'era questo segnale, venivamo da una situazione sempre weekly, che mi stava mostrando appunto debolezza. è un mercato che nel, quindi c'era questa debolezza, ci troviamo sotto questo livello, sicuramente sotto 1,10, c'era questo trend short sul daily. Ho atteso, già dopo questa del 24 gennaio, ho atteso un, come dire, un ulteriore confermo, uno swing da parte del mercato, e dopo che praticamente aveva fatto questo, questo pavimento, cioè il livello di 1,0870, 1,0880, era la zona ormai spartiacque, e effettivamente c'è stata, no? Quindi dopo questo primo, questo primo spike, quindi questa, in realtà questa è una pin bar che fa falsa rottura di quest'altro livello, 1,09, 0,910, e il mercato va giù e swing va a testare proprio questa zona di pavimento. Lo fa creando poi questa, questa FTV molto bella, che praticamente fa il test della zona, uno 0,870, quindi mi dà proprio l'idea, nel momento in cui faccio, guardo il mercato e faccio il trading, che il mercato possa venire giù e andare anche a prendersi più o meno queste zone. Questo era il mio progetto di trade. Che cosa succede? Però che dopo essere entrato il mercato, la sera chiude in questo modo, quindi sempre giovedì, primo febbraio, io faccio l'ingresso la mattina presto, la sera mi ritrovo con una candela di volatilità praticamente uguale, qui siamo, andiamo a vedere un high low di 96 pips.4 e qui abbiamo un high low di 92 pips, cioè abbiamo la stessa volatilità di minimo massimo di giornata e parte questa candela del giorno dopo, però quindi quando io mi ritrovo con una situazione del genere, chiaramente il prezzo mi sta dicendo sto tornando in forza proprio poco sotto al livello di 1.0880, 1.0870, qui la chiusura era, andiamo a vedere, avevamo una chiusura 1.0874, quindi eravamo poco sotto 1.0880, e qui insomma l'idea che poteva essere ormai fallito questo trigger e addirittura vedere un mercato sopra 1.09, cambiava un po' il mio scenario, quindi la mia visione short sul mercato, la mia view short, e se lo andiamo a vedere, queste sono appunto le considerazioni che ho scritto sul diario, vediamo un po', allora, eccoci qua, eccole qui, queste erano le considerazioni che ho fatto, anche perché ho chiuso in serata, volevo chiudere la mattina, ma sinceramente dopo quella vola il mercato non mi stava più, non mi stava più comodo, neanche il trade, quindi cosa mi sono appuntato? Il fatto che il timing, anche se meno importante in questo caso, era stato invalidato, nel senso che il timing, cioè ci sta il ritracciamento, il timing comunque è protetto, uno stop ampio, però insomma questa chiusura, più alta degli ultimi 4-5 giorni, era importante, e il fatto che appunto la continuazione long poteva cambiare quello che era lo scenario sul settimanale. Se andiamo infatti a vedere la situazione, sul settimanale, poi abbiamo avuto questo forte ribasso, però il mercato era, in quel caso, era praticamente bullish, quindi andiamo a vedere, cioè quando ci troviamo a 1,0875, quindi 1,0875, stavamo qui, la situazione era un pochino diversa, perché vuol dire che il mercato poteva chiudere magari anche un po' più in alto, quindi andare a fare una candela bianca di questo tipo, e quindi creare addirittura, questa sarebbe stata una FTV, che è una strategia di Artforex, di continuazione long, quindi soprattutto in linea con quello che era il trend di medio periodo, e quindi aveva senso, aveva senso secondo me, uscire e poi rivalutare nel fine settimana per eventuali posizionamenti long. Che cosa è successo? In realtà il giorno successivo, quindi il venerdì, il mercato è venuto giù, annullando completamente la volatilità precedente, e se andiamo a vedere effettivamente, qui c'è stato un aumento di volatilità, si vede chiaramente, però possiamo vedere anche con un high low 117, quindi il venerdì chiude, chiude in realtà tutto il mondo Forex, chiude in maniera chiara a favore di dollaro americano. A questo punto, lunedì però non sono rientrato, perché sì, sono ancora short su euro, idealmente, nel senso non sono a mercato con la mia posizione, avevo questo primo livello, questi minimi importanti, che erano i minimi più vicini, entrare qui, insomma, si è entrata ancora peggio, insomma, c'era sì spazio, ma non così tanto, e quindi ho atteso. Anche perché, insomma, la conferma di tutto un mondo Forex a favore di dollaro americano, anche sul settimanale, in realtà mi ha aperto un po' il ventaglio di opportunità per questo mese, e potrei valutare, per esempio, un ingresso su Australiano, o su dollaro yen, o comunque anche sulla sterlina, volendo che, se andiamo a vedere, ha comunque confermato questa forza di dollaro, anche lei, avendo abbandonato fondamentalmente questo livello, che è il pavimento 1,26 e 30, che ha tenuto per settimane e settimane. Adesso, quindi, non ho, diciamo, non ho appunto operazioni, e la mia più appunto è quella di un ingresso, cioè la possibilità di poter entrare a favore di dollaro americano, nelle prossime giornate sul Forex, anche se effettivamente c'è qualcosa anche su altri mercati, come il petrolio, è lo stesso DAX che ho chiuso a costo a gennaio, però insomma ci sono diverse possibilità. appunto queste sono le mie due operazioni, quindi un mese di gennaio già chiuso in negativo, un mese di febbraio ancora in corso, oggi è il registro che è il 6 di febbraio, quindi abbiamo ancora diverse sessioni davanti, diverse situazioni che si potranno venire a verificare sui mercati, ho chiuso questo primo costo parziale su euro, e adesso sto attendendo una nuova conferma operativa. Quindi questo per oggi è tutto, questo è l'aggiornamento del mio diario di trading, io ti ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto, ti invito a lasciare un mi piace e eventualmente un commento a questo video per sapere se ti è piaciuto e eventualmente quello che stai facendo in questo momento sul mercato. Io ti ringrazio, ti saluto e ti auguro soprattutto buon trading. Alla prossima, ciao!